Continuiamo le nostre riflessioni sulla speranza lasciandoci guidare dalla Catechesi del Papa Giovanni Paolo I Papa Luciani nel 1978 parlava del valore della giocondità cioè dell'atteggiamento positivo e costruttivo nell'affrontare la vita come una caratteristica dell'uomo di speranza sentite cosa dice San Tommaso d'Aquino ad esempio pone tra le virtù la giocondità cioè la capacità di convertire in un sorridere giocondo certo sempre nella misura e nel modo conveniente le cose udite e vedute giocondo a questo modo spiegavo ai miei alunni è stato quel muratore irlandese che cascò dall'impalcatura e si fratturò una gamba portato all'ospedale accorsero il dottore la suora infermiera poverino disse quest'ultima vi siete fatto male cadendo ma il malato madre non precisamente cadendo ma quando sono arrivato a terra mi sono fatto male dichiarando virtù lo scherzare e il far sorridere San Tommaso si trovava d'accordo con la lieta novella predicata da Cristo con l'ilaritas raccomandata da Sant'Agostino sconfiggeva il pessimismo vestiva di letizia la vita cristiana ci invitava a farci coraggio anche con le gioie sane e pure che incontriamo sul nostro cammino cerchiamo di trovare qualche motivo positivo e sereno in questi giorni si educa la speranza anche cercando motivi di sano e giusto sorriso anche questo il papa giovanni paolo primo ci insegnava è una via per educare la speranza